Il segno del leone che adesso dovrà riprendere in mano un po' la situazione a livello pratico, a livello lavorativo, dopo settimane di euforia che insomma abbiamo restituito comunque il sorriso e il buon umore che hanno contribuito a rendere piacevole questa estate. Adesso Mercurio vi chiede di impegnarvi anche sul lavoro e devo dire un peccato per quelli che staccano la spina in questo periodo perché Mercurio in quella posizione lì è un Mercurio anche particolarmente favorevole per le questioni finanziarie e quindi per chi non lavora in questo periodo dell'anno potrebbe esserci la possibilità di farsi scappare, una buona occasione. Ancora una giornata con la luna nel segno del cancro, quindi ancora una giornata che vi vedrà piuttosto distratti, però poi le cose cambieranno nei prossimi giorni quando la luna entreranno nel vostro segno e anche in amore riuscirete a recuperare molto perché i dubbi, le incertezze, le perplessità, il malcontento di questi ultimi giorni svaniranno come neve al sole. Andiamo!